Questa è l'ultima edizione di quest'anno con The Sound of the Underground, come già vi ho preannunciato nella scorsa settimana, noi nel mese di agosto ci riposiamo per modo di dire, visto che ci concentreremo sulla nuova edizione di Match Music e io personalmente mi concentrerò sulla nuova edizione di questa classifica che penso non si chiamerà più neanche The Sound of the Underground, cambia il nome ma non cambierà il contenuto, infatti il tutorial sarà sempre concentrato solo ed esclusivamente sul sound con la S maiuscola. Allora oggi per aprire il nostro appuntamento un altro personaggio che ha caratterizzato la nostra classifica, lei si chiama Patra, un disco originariamente molto molto basso di velocità, è stato velocizzato, ci ha pensato a farlo molto bene, Mr. Johnny Vicious. Ci hanno pensato Mr. Satoshi Tomi e Johnny Vicious a rendere molto originale e molto ballata. Questa versione di Worker Man, lei si chiama Patra, un altro dei dischi che hanno infuocato le nostre nottate. Vi volevo segnalare anche un'altra delle numeri uno numerose della nostra classifica nel corso dell'anno, è River Ocean Futuring India con la produzione di Little Louie Vega con il singolo che si chiamava Love and Happiness. Un altro singolo di Junior Vicious che è stato al top della nostra classifica con Get Your Hands Off My Men e come ultimo disco, un disco che ormai è entrato nella storia. Si chiamano Sound of Blackness, loro sono bravissimi, sono fortissimi e questo è stato proprio un numero uno per diverse settimane, si chiamava I Believe. Variate sono le versioni contenute in questo triplo mix di Sound of Blackness, un gruppo storico con un disco che ormai è diventato storico, si chiama I Believe. Questo ha regnato per diverse settimane in vetta alla nostra classifica, allora oggi è doveroso da parte mia fare dei ringraziamenti, volevo cominciare subito ringraziando e salutando tutti quelli che lavorano per Match Music. I nostri tecnici, i nostri cameraman, senza di loro il nostro programma non sarebbe quello che è. Poi volevo salutare tutte le nostre inviate che girano come delle trottole per tutta Italia, Dodi, Fanny e tutte le altre. Poi volevo salutare i nostri agenti da Simone Fanfani a Michele Ragazzo, a Nino Latorre e a tutti gli altri. Un doveroso ringraziamento va anche a tutti voi che seguite quotidianamente Match Music Television Italia e che ci seguite in qualsiasi parte d'Italia. Vi volevo ringraziare per le vostre accoglienze sempre molto calorose. Volevo ringraziare ancora il disco in di Modena 059 30 10 22, il numero di telefono mi raccomando, reccatevi lì per ogni vostro acquisto. Se volete dei promo, se volete dei dischi pubblicati, se volete dei pezzi storici che mancano nelle vostre collezioni, disco in e negozio giusto. Un altro ringraziamento va all'altro mio sponsor per il Mix of the Week, si chiama DJ Studios, il negozio è a Verona e il numero di telefono è lo 045 800 6916. Un rispettoso saluto anche a tutta la nostra produzione. E noi ci vediamo a settembre con la nuova edizione di The Sound of the Underground, la classifica televisiva più famosa d'Italia. Noi ci vediamo in giro per tutta l'Italia quest'estate nei nostri vari appuntamenti. Mi raccomando, ascoltate sempre della bella musica e soprattutto ad alto volume. Play it loud! Noi ci vediamo in giro per tutta l'Italia!